Oggi abbiamo approvato in giunta la deliberazione per candidare ufficialmente Ascoli come Capitale Italiana della Cultura 2024, un progetto che abbiamo annunciato tempo fa, che oggi mettiamo nero su bianco, istituendo un comitato che si occuperà di redigere un progetto preliminare. Un comitato composto da figure di spicco ed illustri che ci aiuteranno a narrare l'importanza di questa città. Ascoli Piceno ha tutti i requisiti per diventare Capitale Italiana della Cultura. Vogliamo raccontare l'importanza architettonica e artistica, ma vogliamo anche raccontare la storia millenaria che fonda su radici solide. Vogliamo far emergere la vera vocazione culturale di Ascoli Piceno, coinvolgendo tutti e quindi in primis i cittadini che saranno orgogliosi di vedere la propria città in lizza di questo importante riconoscimento, ma vogliamo coinvolgere tutte le associazioni culturali, tutti coloro che lavorano nell'ambito artistico e culturale e anche coinvolgendo tutti gli attori istituzionali, mettendo da parte la propria casacca di partito ma mettendo al centro Ascoli Piceno. La cultura è un volano imprescindibile per dare nuova limpa a questo territorio. È un progetto molto ambizioso ma noi abbiamo il giusto coraggio per seguirlo.